Sì, da Copelassa, sabato torna la festa della Cucina Bianca, un appuntamento imperdibile per Mendatica, ci sono però anche ragioni di sicurezza, quindi modifiche un po' la viabilità, bisognerà attenersi a qualche nuova regola? Sì, allora sabato di nuovo la Cucina Bianca, soprattutto anche per una testimonianza che comunque in Vallaroscia non ci si arrende e si continua ad andare avanti e quindi a curare il nostro territorio. Sì, nuove norme di sicurezza, nuove direttive del Ministero a cui noi abbiamo cercato di adeguarci nel più possibile. Le novità di quest'anno saranno, quindi chiedo a tutti quelli che ci verranno a visitare di poterlo fare, nel senso di seguire questa nuova direttiva. Abbiamo dato un senso di percorrenza alla festa che più o meno ce l'aveva già, però abbiamo cercato di adeguarla proprio a questa iniziativa, quindi di seguire il più possibile il senso che daremo di rotazione a questa festa, dove oltretutto lungo il percorso ci saranno anche segnalate vie di fuga in caso di necessità. Questo per quanto riguarda i pedoni, per i veicoli? Questo per quanto riguarda i pedoni, per i veicoli quest'anno, la novità di quest'anno è che Mendattica sarà chiusa al traffico dalla zona del cimitero fino alla zona del bivio di Cosio, quindi nella parte centrale, dove prima comunque era sempre consentito il traffico, appunto per evitare che ci siano infiltrazioni di traffico, quindi per la sicurezza delle persone. Si è istituito un senso unico per quelli che arrivano via Pieve di Teco a Quettico, che arrivano a Mendattica, poi si seguirà con senso unico per la strada Mendattica-Montegrosso, quindi poi il traffico, quando uno va via, defluirà da Montegrosso-Pianlatte. Dall'altro lato invece si arriverà sempre da Cosio e da Roscia e lì comunque il senso sarà a doppio senso, quindi volendo comunque chi vuole può anche defluire dalla parte di San Bernardo di Mendattica, anche se è più lunga. Abbiamo fatto l'ordinanza un po' molto pensata, però poi alla fine abbiamo fatto l'ordinanza che riguarda il vetro e le lattine, perché effettivamente la nostra è una festa dove c'è molta gente, circolano molte bottiglie e a ricordo degli altri anni, comunque al mattino e alla domenica troviamo molti cocci di vetro, bottiglie rotte. Quindi niente vetro e niente lattine quest'anno? Niente vetro e niente lattine, abbiamo messo dei punti in più dove ci saranno le bevande, quindi verrà versato nel bicchiere, si potrà sempre bere tranquillamente il vino e tutto quello che è, però abbiamo preferito dare una nota di sicurezza anche in quello perché effettivamente è molto pericoloso. Alessandro Lanteri, neopresidente della Proloco di Mendattica, intanto complimenti per questo onore e onere. Parliamo un po' di festa allora, parliamo delle cose buone di questa cucina bianca. Beh, allora, diciamo che abbiamo confermato il menu tradizionale, il nostro secolare menu che è basato sui punti della cucina bianca, che ricordiamo sono piatti della tradizione delle Alpi Liguri, basati principalmente su farina, patate, cavoli, latticini, prodotti del sottobosco, e noi in particolare abbiamo messo una discreta attenzione per cercare di fare la filiera più corta possibile per l'approvvigionamento di tutti questi materiali. I piatti sono diversi, parliamo di streppe, caccialà, sugelli, turle, la solita quindicina di assaggi che si possono fare di piatti diversi. Dobbiamo ringraziare anche le proloco di Montegrosso, Cosio, Ormè e Bugio che ci vengono a dare una mano perché appunto la comunità delle Alpi Liguri è molto larga ed è molto collaborativa ultimamente e anche noi infatti andremo a trovarli nelle loro feste. Ci sarà tanta musica di tutti i generi, dal jazz al folk al rock, per chiudere poi con un DJ set che ha pensato bene di dedicare anche una canzone scherzosa alla nostra festa, ai mitici Giove Trama. Per il resto penso che sarà come sempre una festa da vivere in allegria e in serenità e volevo solo aggiungere una nota pratica per chi ci viene a trovare alla festa. C'è il campeggio come tutti gli anni al parco delle Canalette assolutamente gratuito. Chi ha bisogno della tenda comunque può trovarla sul loco in affitto. In questo caso qua ci permettiamo di consigliare alle persone che vengono a trovarci alla festa di non salire via Aquetico ma via Pradiente Cosio da Roche. Quindi salite lungo la 28 normalmente, passate Pornassio, in quel punto lì riuscite a prendere il bivio, arrivate a Mendatica via Cosio da Roche, parcheggiate sotto il parco delle Canalette, sistemate tranquillamente la vostra tenda e preparatevi a godervi la festa. Grazie. 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 Grazie.